Grazie. Dovremmo iniziare perché abbiamo dei tempi... La facciamo, aspettiamo, facciamo dopo. Quanti siete? Siamo due. Vabbè dai, la facciamo dopo perché altrimenti non possiamo... Ecco. Ecco, va bene. Va. Va, va. Si sente? Funziona? Va. Non fa. Non funziona. Va, va, va. Sì. Eccoci, dobbiamo iniziare perché alle sette, alle diciannove anzi, dovremmo andarcene. Porto i saluti da parte dell'organizzazione del Tocca T e soprattutto di Narrazione in Gioco, questa sezione del Tocca T che cura gli incontri. e siamo felicissimi perché è da anni che corteggiamo Bianca Pizzorni è una grande amica di questa grande autrice, ma anche, credo, la persona che più ha voluto che Mondadori pubblicasse tutti i suoi libri. Sono graditissimi a generazioni di ragazzine di ragazzi, grazie a tutti i suoi libri, perché è un'autrice molto amata dalle bambine e dalle ragazzine. Allora siamo felici di averla qua, fra pochissimo inizieremo, adesso vedo che sta ancora firmando i libri, vi ricordo gli altri appuntamenti importanti degli incontri che troverete nella brochure che avete, fra questi, a parte questa sera Giorgio Presburgo e per gli adulti perché probabilmente è anche un nome un po' difficile per i più giovani, mi piace ricordare che domani pomeriggio sempre qua alle 16.30 facciamo questo omaggio a questa grandissima figura che è Danilo Dolci, ci sarà il figlio amico Dolci e avremo dei filmati inediti sulla sua storia che è stata grande, insomma è considerato il Gandhi italiano, per cui se avete voglia di ritornare, anche se c'è il sole, state qua all'ombra con noi un paio d'ore perché veramente vale la pena. Vi ringrazio, passo la parola ad Antonia Pavesi che a nome della cultura del comune dirà anche lei due parole, grazie. Grazie Chiara Stella, porto i saluti dell'amministrazione comunale, io la delega alla cultura perché abbiamo collaborato, ormai sono 11 anni, che il comune lavora insieme ad Aga per il Toccatì. Devo dire che faccio una cosa brevissima, la cosa molto bella di oggi è questa aggregazione di età, partire dai più piccoli arrivare ai più grandi vuol dire che Bianca Pizzorno riunisce intorno a sé molte generazioni e penso che sia la caratteristica dei grandi scrittori. Noi siamo molto contenti che possiate essere in questa bellissima sala, ci dispiace che non è così grande perché mi sa che molte persone volevano entrare. Vi ricordo ai bambini che in questa biblioteca che fa così impressione maestosa però c'è tutta una divisione ragazzi al piano terra piena di giochi di colori che speriamo che sia sempre animata da voi perché l'importante è che la lettura passi attraverso anche i nostri figli. Margherita Forestan che oltre alla sua lunga esperienza legata alla Mondadori è molto legata al comune perché è il nostro garante dei detenuti, del comune di Verona quindi fa un'opera preziosissima presso il nostro carcere di Verona. Buon lavoro a tutti, penso che vogliate ascoltare la grande scrittice. Grazie a tutti. Va bene utilizzo questo, buon pomeriggio, grazie intanto per la vostra presenza, mi dispiace perché ci sono altrettante persone giù ma questa sala non può ospitare più di un certo numero di ospiti. Dire che io ho avuto l'onore, la fortuna, non lo so come mettere insieme questi termini, sta di fatto che io posso dire di aver fatto quasi tutto il mio percorso editoriale in Mondadori accanto a Bianca. Bianca è entrata in Mondadori come autore nel 1987, quindi fate un po' i conti voi da quanti anni ci conosciamo e da quanti anni lavoriamo insieme. E devo dire che da quando ci siamo incontrate tutta l'opera di Bianca Pizzorno è passata dalla casa editrice Mondadori. E' cominciato tutto per gioco perché io ho la convinzione che le cose che facciamo per gioco molto spesso sono le cose più importanti della nostra vita. Era il 1986, c'era un festival, un premio, il premio Andersen che c'è ancora a Sestri Levante. Io ero con mio figlio, ero da poco direttore delle edizioni Mondadori e quindi avevo portato anche mio figlio che aveva allora nove anni a questo premio. E a questo premio c'era anche Roberto Piumini, che molti di voi conosceranno, ecco, e anche lui con suo figlio che aveva l'età di mio figlio. C'era anche un altro ragazzino, insomma c'erano dei ragazzini. Mio figlio era molto timido, tuttora lo è, e stava sempre un po' attaccato a me. Però guardava con grandi interesse, come fanno di solito i bambini, gli altri bambini presenti che giocavano con Altan. Altan è il papà della pimpa, ma è anche quello che tuttora fa delle vignette molto ciputi. Ecco chi legge l'Espresso ogni settimana vede le vignette di Altan. Quindi uno dei più grandi scrittori, diciamo, umoristi, attraverso i suoi disegni racconta in realtà delle storie. Ecco, c'era il tavolo, Bianca, Altan, e questi ragazzi... Un altro tavolo. Si scrivevano, mentre mangiavamo, si scrivevano delle lettere. In realtà non erano delle lettere, erano dei giochi di parole. Mio figlio, dal suo tavolo, io forse l'ho educato troppo severamente, non si muoveva e stava seduto come un soldatino, se non che Bianca, che ha un'autentica e vera passione, e soprattutto comprende immediatamente lo stato d'animo dei bambini, lo ha chiamato al suo tavolo. Dice, vieni qui e gioca con noi. Lui non vedeva l'ora, naturalmente, ed è stato molto difficile, ad un certo punto della giornata, interrompere questo gioco di biglietti, di parole, eccetera, perché naturalmente aveva travolto tutti quanti, compresi tutti noi adulti. Ecco, la mia conoscenza con Bianca Pizzorno è avvenuta attraverso dei pizzini, con i quali pizzini, la pizzorno giocava. Bene, questo è l'inizio. Poi è stata una lunga e, diciamo, fruttuosa collaborazione, che ha dato vita a un numero immenso di libri, e proprio in questi giorni, per prepararmi a questo incontro, li ho riguardati un po' tutti, per riuscire a distanza, è come quando abbiamo, in qualche modo, ultimato una cosa, e tu la guardi da lontano, dopo un po', ti avvicini e vedi delle cose che magari prima, mentre facevi quel lavoro, facevi pezzo pezzo, quel mosaico, ecco, non ti accorgevi del valore di ogni singolo pezzo, lo vedi dopo, quando questo mosaico è terminato. e posso dire di aver individuato due filoni. Se posso ridurre, ecco, l'opera di Bianca Pizzorno in due pezzi, ecco, direi, intanto in tutti i suoi libri, in tutti i suoi libri, ci sono dei giochi. Per cui, se ci fosse una persona che avesse voglia di raccogliere, di fare un'analisi antropologica, filosofica, storica, di questi giochi, avrebbe un lavoro immenso. Bianca ha tantissime studentesse che si sono laureate con tesi sul suo lavoro. Mi piacerebbe tanto vederne una puntata, proprio, l'hanno fatta, non l'hanno fatta, dovrò rifare io un po' di università e poi dopo farò finalmente una tesi su questo. Però lancio l'idea. Bene, dicevo, ci sono due filoni. Il primo è che ci sono dei libri dove Bianca narra di giochi di movimento. I giochi di movimento sono quelli dove non si sta fermi. Questo è, no? La palissiano. Bene. Però i giochi di movimento possono essere giochi di strada e giochi in bande. In questi giorni si è parlato molto dei ragazzi della Via Pal. No, i ragazzi della Via Pal c'erano due bande. Ecco, allora, giochi di strada sono diversi dai giochi di bande che poi ci racconterà. Si fanno per strada anche quelli, ma sono più organizzati. Io faccio sempre parte della banda A, lei fa sempre parte della banda B e ci scontriamo, giochiamo e chi vince e chi perde è la seconda. Il gioco di strada è invece quello un po' più improvvisato. improvvisato siamo in tre, giochiamo in tre, siamo in dieci, giochiamo in dieci. Ma la cosa straordinaria non è tanto i giochi di squadra o i giochi in bande. Il fatto è che la bianca giocava con i maschi. E io so che adesso è molto facile giocare maschi e femmini insieme perché sono cambiati i tempi, sono cambiate le abitudini, ma vi posso assicurare che quando eravamo piccole noi questo non era previsto. Le bambine giocavano con le bambine e i maschi giocavano con i maschi. Ma bianca, che doveva essere un po', come dire, birbantella, no, forse no, neanche birbantella, anche altre bambine, insomma. Nei suoi libri queste bambine giocavano con i maschi. In realtà tutta l'opera di bianca è sempre percorsa dalle bambine, no? E veniamo al secondo filone, perché dopo passo la parola bianca. Il secondo filone erano i giochi di parole. Nei libri di Bianca Pizzorno ci sono un sacco di giochi di parole. Lei con le parole gioca, fa giocare, si diverte, crea tranelli, ci porta in qualche modo a essere quasi collaborativi nella stesura del suo libro. Ci chiama ad essere partecipi. Ecco, io credo che nessun autore possa meglio di Bianca Pizzorno rappresentare, essere qui oggi a parlare di gioco, di giochi, che giochi, quali giochi, a una festival come quello del Tocatì. Quindi, Bianca, ho detto giusto, ho detto sbagliato, ho visto giusto, ho visto sbagliato, ti passerei la parola. Si sente bene? Si, si è acceso. Allora, intanto io vi chiederei un augurio per il mio amico Roberto Piumini e credo, che credo tutti voi conosciate, che ha avuto il secondo nipotino. Io lo prendo in giro e gli dico Roberto sei bisnonno. In realtà è nonno. Era già nonno di un bambino chiamato Pietro detto Pitù e Avantieri è diventato nonno di un bambino chiamato Tommaso. E lui è felice, siamo tutti felici e siccome tutti i giochi di parole io nella mia vita da quando conosco Roberto li abbiamo fatti insieme, come appunto questo di dirgli ciao bisnonno e farlo arrabbiare. e allora io sono molto contenta e anche se io a questo bambino non sono altro che un'amica del suo nonno però mi sento come se fosse un mio nipotino e allora è una cosa di piacere che voglio dire a tutti e stiamo aspettando che tutti e due imparino presto a parlare perché faremo dei giochi straordinari di sicuro. questo per metterla sull'autobiografico e sul familiare perché una cosa che non ha detto Margherita Forestin è che io nei miei libri in particolare questo dettaglio dei giochi non mi sono inventata niente i giochi di cui io parlo sia i giochi di parole che i giochi che i giochi di parole che coinvolgono fondamentalmente la mente e la lingua ma la mente è la mano che scrive eventualmente invece gli altri i giochi di movimento i giochi che riguardano il corpo sono tutte esperienze che io ho vissuto personalmente cioè non sono dei giochi di cui ho letto che ho sentito nominare e via dicendo per esempio qua un filo base di quest'anno è il romanzo ungherese i ragazzi della Via Pallo i ragazzi di Via Pallo che anch'io ho letto quando ero molto piccolo quando ero molto piccolo avevo avuto nove anni otto o nove anni che mi piaceva moltissimo che mi faceva piangere quando muore il soldatino semplice che però mi dava un po' fastidio perché non c'era neanche una bambina che giocava con loro mi pare se ricordo bene che l'unica presenza femminile dei ragazzi della Via Pallo sia la sorella di uno di loro che ha cucito la bandiera che poi viene rubata e il furto della bandiera scatena la guerra con i ragazzi dell'orto botanico e a me sembrava questo molto strano perché invece nella mia vita quotidiana le bambine non stavano a casa a cucire bandiere le bambine aprivano la porta di casa scendevano e anche loro facevano partecipavano alle guerre alle lotte e ai giochi che si facevano per strada io sono stata molto fortunata qualche volta sento qualcuno che parla di quegli anni immediatamente successivi alla guerra come di anni tristissimi come di anni in cui mancavano tante cose ed è vero che da un punto di vista materiale gli italiani in particolare e poi noi in Sardegna abbiamo per noi la guerra è durata ancora due anni perché dopo la fine della guerra si temeva che i tedeschi avessero lasciato delle sott'acqua dei sottomarini esplosivi quindi le navi non viaggiavano pensate che io ho una mia amichetta che amichetta allora che la mamma prima della fine della guerra era andata a Firenze a trovare una parente lì era nata la bambina il padre che era rimasto in Sardegna l'ha conosciuta che aveva tre anni questa figlia perché né l'uno né l'altro si potevano muovere perché c'era questo terrore che qualsiasi barca che attraversasse quel tratto del Mediterraneo potesse saltare in aria questo voleva dire che non viaggiavano le merci quindi noi non avevamo giocattoli noi avevamo i resti dei giocattoli dei nostri cugini più grandi e avevamo anche i bambini di famiglie che stavano più benestanti eccetera avevamo quel po' di giocattoli che le nostre mamme se sapevano cucire ci facevano con le calze vecchie o con delle scatole di scarpe forse anche per questo motivo noi giocavamo tanto per strada perché appena si usciva c'era anche il clima che ci aiutava ma appena si usciva di casa e si andava sul marciapiede qualsiasi cosa era motivo di gioco noi facevamo per esempio e in questo io giocavo insieme ai maschi anche se non era un gioco di banda però erano comunque dei giochi di regola con delle regole molto fisse noi giocavamo al giro d'italia disegnando per terra col gesso delle specie di serpentoni e poi facevamo i ciclisti con i tappini delle bottiglie ritagliavamo c'erano le figurine quelle sì non so come arrivassero le figurine forse erano delle squadre vecchie che ancora erano delle squadre prima della guerra ritagliavamo la faccia del ciclista la appiccicavamo io ne avevo uno che si chiamava Fiorenzo Magni qualcuno che è grande se lo ricorderà Fiorenzo Magni era il mio ciclista e poi facevamo questo gesto che a Sassari si chiama il pistonco non so come si dica nelle altre questo gesto così con cui davamo facevamo correre la nostra bicicletta e quindi passavamo ore e ore inginocchiati per terra su poi invece curioso questo lo facevamo maschi e femmine le bambine da sole perché i maschi questo gioco non lo volevano fare giocavamo a noi lo chiamavamo paradiso poi so che ha infiniti altri nomi mondo cioè si disegna per terra una serie di quadrati noi lo facevamo un rettangolo diviso in quadrati e poi un tondo sopra con i numeri con le lettere dell'alfabeto poi si prendeva un pezzo di mattone un sasso si tirava secondo della casella in cui capitava bisognava saltare con un due piedi con un piede sollevato eccetera andare avanti tirare non so qui come si chiama a Verona campana è vero si chiama campana perché la forma in realtà è quella un po' di una campana e quello curiosamente lo giocavano le bambine i maschi non lo giocavano poi avevamo avevamo le biciclette e i pattini pochissimi ce li avevano e allora gli altri andavano a fare lemosinare oppure a offrire guarda ti faccio il compito di matematica difficilissimo se mi fai fare un giro in bicicletta se mi fai fare un giro sui pattini i pattini in genere venivano prestati uno a uno e uno all'altro e si andava con un pattino solo con l'altra gamba alzata come la gru di chichibio di boccaccio perché di pattini ce n'erano pochi e tutto questo noi lo facevamo senza allontanarci troppo lo facevamo nel marciapiede che circondava l'isolato di casa nostra qualche anno fa io ho trovato in Francia questo libro di cui vi ho portato una coppia e che purtroppo non è stato tradotto in italiano però se qualcuno conosce il francese lo raccomando di leggerlo perché è bellissimo l'autrice si chiama Marie scritto Marie Rouanet è una poetessa di Béziers un paese della Provenza in basso vicino ad Avignone il titolo è Nus le filles figli in francese voi sapete che ha non vuol dire le figlie vuol dire le ragazze ma vuol dire anche le bambine figli si è dai due anni ai quattordici anni o anche ai diciotto ai diciannove e lei racconta di questo gruppo di bambine di famiglie molto modeste che avendo delle case molto piccole dovevano per forza giocare per strada perché erano famiglie numerose le madri a casa non le volevano aprivano la porta dicevano show show fuori e facevano una infinità loro solo fra femmine loro i maschi proprio li guardavano da lontano anche se magari erano i loro fratelli e i loro cugini e giocavano abbastanza calme con i sassolini i germogli per esempio io mi ricordo di me quei fiorellini piccoli 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 che crescono fra le creppe delle matonelle per noi erano infinitamente più preziosi dei fiori grandi perché sembravano delle miniature allora li raccoglievamo con le unghie o li mettevamo in omaggio dentro i formicai convinti che le povere formiche gradissero invece le formiche scocciatissime le buttavano subito fuori oppure se ci innamoravamo di qualche grande perché ci innamoravamo molto dei nostri zii delle nostre amiche eccetera andavamo nella macchina sollevavamo uno dei tergicristallo e gli infilavamo questi due o tre fiorellini e quello diceva che mi ha messo l'erbaccia il vento ha portato delle erbacce e invece eravamo noi queste adesso io dico noi stavo parlando delle bambine francesi perché ho trovato che il 90% dei giochi che faceva questo gruppo di bambine francesi era uguale identico lo stesso a quello che facevamo noi c'erano dei giochi di regole ossessivi la famosa palla muro c'erano quelle bravissime che tirando la palla facevano 40 gira volte prima di riprenderle oppure c'era quello che noi chiamavamo il gioco delle cinque pietre che loro chiamano il gioco degli ossicini allora queste bambine cosa facevano? si facevano regalare dal matatoio dai macellai certi ossicini dei piedi dei buoi li mettevano vicino a un formicaio le formiche in due giorni li spolpavano completamente diventavano come se fossero di avorio e loro con questi cinque o se le facevano questi giochi noi più semplicemente più igienicamente secondo me pidavamo cinque sassolini cosa si riusciva a fare con questi cinque sassolini? tirarli in aria prenderne solo tre prenderne solo quattro mentre i sassolini erano per aria ci si toccavano le ginocchia con le mani così con le mani incrociate qualcuno addirittura si alzava si spostava sul marciapiede e ritornava cioè c'erano le virtuose che godevano di una fama incredibile in queste loro abilità e passava qualche adulto diceva ma che giochi stupidi che state facendo che cosa vuol dire? invece no poi il gioco della corda saltare alla corda come voi sapete alla corda si può saltare da soli come fanno gli atleti quando si allenano oppure due tengono la corda e una o due o tre o quattro o cinque a secondo della lunghezza della corda più è lunga la corda e più è difficile però se si gioca in quattro o in cinque la corda deve essere lunga e anche lì si può saltare con le gambe i piedi alternati si può saltare a piedi uniti si può saltare per così e mentre sei in aria ci si gira dall'altra parte cioè erano tutta una serie di rituali che creavano anche delle gerarchie perché non c'era nessun quaderno dove ci fosse scritto Tizia è bravissima nel gioco delle cinque pietre ma noi lo sapevamo e c'era un rispetto enorme per queste competenze diciamo poi invece c'erano i giochi di inseguimento i giochi di inseguimento che naturalmente facevamo quando siamo diventati un po' più grandi e dal marciapiede ci potevamo spostare anche nella piazza vicino perché se uno gira in uno stesso marciapiede lo spazio non è tanto poi non parliamo del nascondino che invece è più complicato perché ci deve essere anche il posto dove nasconderci ma parliamo dei giochi di inseguimento i giochi di inseguimento come voi sapete cambiano nome a seconda del territorio dove vengono giocati noi sardi giocavamo a banditi e carabinieri avendo i banditi sardi noi giocavamo a banditi e carabinieri e il ruolo dei banditi era quello più richiesto in assoluto non eravamo dalla parte della legge eravamo tutti fuori legge però ce n'era uno di questi giochi di inseguimento che poi ripensando ci ho detto ma questo gioco dovrebbe diventare l'emblema delle femministe perché era sempre un gioco di inseguimento che faceva parte di quelli che in cui c'è un elemento che ci mette in salvo non so forse voi conoscete il rialzo cioè si corre si scappa eccetera però chi sale su un gradino quello è salvo però poi c'è tocco ferro uno corre trova un come si chiama un lampione di ferro se tocca il ferro non può essere acchiappato tocco legno e via dicendo noi ne avevamo uno che facevamo questo solo le femmine e che si chiamava aiuto sorella questo gioco si faceva così c'era al solito l'inseguitore c'erano quelle che scappavano finché tu eri sola scappavi e potevi essere acchiappata se a un certo punto tu vedevi che l'inseguitrice era molto vicina lanciavi un grido aiuto sorella l'altra fugitiva più vicina si avvicinava e vi abbracciavate se eravate abbracciate non potevate più essere acchiappate questo allora noi non calcolavamo però ripensandoci oggi ha un valore simbolico fortissimo cioè se le donne in situazioni di pericolo imparassero a chiamare in aiuto la sorella cioè un'altra donna con la quale hanno delle affinità molti pericoli secondo me potrebbero essere scampati infatti io dico adesso voglio un po' fare un'intervista fra le mie amiche di allora chi se lo ricorda eccetera e poi facciamo veramente una proposta aiuto sorella che era un gioco che si giocava quasi tutti i pomeriggi potrebbe diventare una specie di logo aiuto sorella e fin qua siamo a dei giochi organizzati sì ma dove che si giochi in due che si giochi in dieci si è sempre con lo stesso obiettivo i giochi di bande come voi sapete sono dei giochi invece in cui ci si contrappone ci si contrappone e possono essere dei giochi abbastanza sedentari dove non so non so come si chiamasse c'erano delle figurine che si facevano si attaccavano al muro poi cadevano e quando cadevano secondo come cadevano facevano vincere delle altre non me lo ricordo sinceramente però erano due squadre che facevano questo gioco e pigliavano le figurine come anche le biglie alla squadra rivale e chi alla fine aveva più figurine aveva più biglie aveva vinto c'era il famoso problema della conta chi sta io sono il capo di una squadra tu sei il capo dell'altra squadra chi sta con me e chi sta con lui non era mai spontaneo io vado con lui perché è mio amico eccetera allora si faceva tocca a te io scelgo lui io scelgo lui ed erano dei momenti di una credo che uno psicologo o uno psicanalista ricostruirebbe delle cose intanto il dolore di quelli che venivano scelti per ultimi che nessuno li voleva giocare con loro che magari i poveretti li volevamo anche bene eravamo affezionati ma erano imbranati a correre non li volevamo per quel motivo oppure non sapevano stare zitti rivelavano i segreti e via dicendo e poi c'erano i primi amori allora magari io proprio a me di quel ragazzo non mi importava niente però lui mi sceglieva sempre quando facevamo la conta io dovevo andare con la sua squadra anche se gli altri non mi piacevano cioè c'era tutto questo rituale prima del gioco questo della formazione delle squadre che era già di per sé come una non è neanche una recita era molto più di una recita perché poi chi era quella parte in quella parte era lui non è che recitasse la parte di qualche di un altro diciamo che erano giochi di ruolo molto tempo prima che apparissero i giochi di ruolo grazie